Musica 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 No no di qui Dove sto io Allora è il dungeon 7 però non andiamo in fondo Cerchiamo solo di Entrare e prendere i materiali di qui Oh mio dio Allora qua è l'entrata Dove vai Stan? Da un altro lato Avete visto cosa c'è qua Si lascia stare E' il dungeon di prima Si ma è l'8 non fare queste cose Sarà indietro non calma Non è l'8 No è il 4 Ah si si quello si Però è dall'alto Ok c'è un po' più di gente di prima Ok oddio con calma Stef c'ha la spada Oh le torce me le so scordate Non le portate Avete preso torce? Ok mettete torce Qui c'è ferro E roba sicuramente Io li butto lontani Ok carbone ferro Bisogna anche vedere dove spawnano Occhio Ok penso di avere individuato uno spawn Occhio Ragazzi proteggetemi sto prendendo il ferro Oh tiro Mi hai massacrato Eh scusa se passavo preciso nel mezzo Mi sa che muoio aspetta No no Eh si con la Eh no culo 3 di ferro 4 di ferro Bastardo Hai tratto un colpo o sbaglio? Oh 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 Eh no per sbaglio però c'ero lo zombie Sta in prima linea te Uuuu Cosa ho trovato? Non andare avanti Torna indietro Venemi difendermiiii Ma ce la potevi fare c'è uno zombie Eh ma sto prendendo il ferro non guardo Guardo davanti Cioè guardo sopra non davanti Ma stai usando il piccone per prendere il carbone? No Piccone in pietra si può prendere il piccone del ferro Ho visto uno spawn Veduto Allora di là ci sono un monte di funghi ma veramente tanti tanti Eccolo ho trovato No 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 Undici di ferro Trovato Oh ma mi ha il baby zombie C'è un baby zombie Fa sempre il culo sto stronzo di mezzo Vado a prendere il carbone Vuoi ha quante mani zombie? Io mangio Le mangio per prendere un po' d'energia Oh c'è un baby zombie Se non mi si può affrontare Aia 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 to Aia to Oh mamma mia Se non mi si può affrontare questo dungeon Eh andiamo avanti Proviamo Oh dietro E' che sono tanti fanculo Oh oh E' attento Ma che è sta roba? Che è sta roba? E' clay E' clay Vabbè se la rompita puoi ricreare dopo eh E' comoda E' facile da rompere Sack Oh c'è lo spawn qui Ragazzi avete visto per caso altri materiali? Oh Per forza c'è uno spawn qua sotto Perchè è nato proprio qui lo zombie Eccolo Attenzione c'è anche un baby zombie Occhio Aiuto 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 Ma ho shottato i baby zombie Ho un cuore C'era vinto qualche tipo di cibo? Qualsiasi tipo C'ho le zampe di zombie Eh ok allora niente C'ho anch'io Boh io sono già a livello 10 Qui c'è il carbone Eh fammelo prendere proteggimi il secondo Ok 10 carbone e 11 ferro No vabbè ma sono troppi Eh qui è pieno di funghi ma è pieno anche di Prima dobbiamo mettere torce ragazzi Sì Vaia C'era uno dietro C'era uno dietro Oddio Un colpo è muoio ma è colpe con te Assassino Scappa 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 Aiuto Ok io sono su Oh io mi sono bloccato Vabbè abbiamo preso il ferro e il carbone Può darsi perché ce ne possiamo andare da qua eh Quante ne hai preso di ferro? 11 ferro e 10 carbone Eh non tanto Eh vabbè dobbiamo andare però per ordine Abbiamo fatto dungeon 3 e 4 Ci manca il 5 Sì Avete preso le mie cose? Vabbè che non ero niente di particolare però Eh no Mi sto andando a prendere io Oh cazzo Surry mi ricolpevo te No Ok ho preso ho preso possiamo andare Io direi di trovare il dungeon 5 Non prendiamo questi funghi per farsi il cibo? Eh Se mi copri Oh guarda là c'è uno spawnerlo vedi? Sì l'ho visto No Surry non fa Non puoi passarmi davanti mentre colpisco gli zombie Vabbè ho distrutto C'è l'acqua Oddio 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 No ma perché sapete che sto pensando perché se teniamo il ferro facciamo i secchi facciamo i secchi di lava E uccidiamo tutti E uccidiamo tutti cazzo E uccidiamo tutti cazzo Quindi facciamo i secchi che sono molto più importanti a questo punto di un'arma inferno Vero è vero Riprendiamo la la E uccidiamo tutti con la lava C'è funghi proteggetemi c'è i funghi Valla protetta Eh ho io un cuore Ho due cuori Ok 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 ritirata Dietro dietro ritirata ritirata via 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 C'è l'esperienza qua Eh lascia stare l'esperienza ritirata Questo è il dungeon Il farm 12 11 Che cazzo vai Surry? Eh torno a casa E dall'altro lato era? Eh stessa porta Cioè Abbiamo fatto l'entrata facile Ho capito Hai messo un'ora e un quarto Vabbè io metto a cucinare sto ferro Va bene io ho fatto un collegamento eh Caso vi interessasse Ok Per la cucinare Torce quante ne avete ragazzi? Io ho altri funghi Io ho due funghi Vabbè dobbiamo fare un po' di torce Qua piuttosto È andato qualcosa? Dici di espandere un po'? Eh beh Potrebbe servire in effetti però Solo per mettere più funghi non per altro Ho messo 18 torce nella chest Ma perché non è andato niente ancora? Eh ci vuole tanto tempo Comunque nelle fornacce Nella stalla principale c'è il carbone Perché ci sono mob dove sta la costalla dei monumenti? Ci sono creeper C'è un enderman Aiuto 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 Perché c'era Perché non c'erano abbastanza torce Ma in sta stanza mi sa che è abbastanza illuminato Non questa è l'accanto Oddio di creeper Metti torce Oh Metti torce No forse è Boh Oh Poi io c'ho due ferri da cucinare Eh Io vorrei capire Io vorrei capire la lana arancione dove cazzo si prende Quanti l'avevi messi te Surry? Di cosa? Di funghi 3, 4 Eh ok No pensavo fosse nato Invece no Poi ho spanto un po' la stanza Mettiamoci una porta semmai Eh l'ho chiuso io L'ho chiuso io Non è vero Secondo me a sto punto per far crescere i funghi dobbiamo espanderci in basso In modo tale che l'altezza sia quella giusta Ah beh sì sì se abbiamo bombier è molto più facile fare gli cresciuti con gli giganti Io ce l'ho Io ce l'ho Quanto? 3 Buon meal o cosa? 3 buon meal Eh no Non basta lo dici Ragazzi secondo me dove vai in dungeon 5 eh? Boh io so che subito bisogna andare nell'isoletta di la secondo me al 100% Andiamo a fare un giro nell'isoletta la Se ne portiamo sempre spazio Ragazzi? Che è successo? Patate Oh si Eh me ne andavano zombie Ok facciamo la 1 Eh abbiamo l'acqua però Dovevo fare un secchio d'acqua Vabbè il secchio si fa Vabbè quello L'ho viste ora Oddio C'abbiamo già Non si sa perché ma ce l'avevamo già Vabbè ora creiamo una stanza apposta solo per quello Quanto Ho fatto il secchio Ne faccio due ragazzi di secchi secondo me Abbiamo in terra Mmm non tanta Però se andiamo sull'isoletta ne possiamo prendere ancora Qua ce n'erà Qua ce n'erà solo un pezzo Vabbè intanto un pezzo Sull'isoletta se non erro c'erà Voglio andare su quell'isoletta se non c'erà Ma fallo qui l'orto eh bravo sull' Fallo da queste parti No fallo nella stanza principale Eh infatti dove stiamo noi Dove stai tu ste? Sto risistemando la piattaforma Ah ok ok Noi facciamolo facciamolo qui dai Eh ma manca l'acqua Vado a prenderla io un momento Eh perché prima di mettere l'acqua No ma aspetta Ma dove la prendo l'acqua scusate L'acqua c'era dove c'erano gli zombie che abbiamo appena ucciso Esatto C'era l'acqua? Si E io come dobbiamo andare insieme Certo L'hai fatto il secchio? Anche io Te lo hai il secchio si Ok ok aspetta che le patate le lascio qua che se muoio non voglio perderle Esatto graff Solo lì c'era acqua Andiamo Let's go on E adesso in superficie c'è solo lava quindi Ok c'è già il nostro mio zombie Mori Stiamo in strada Prendiamo l'acqua Si aspetta aspetta Vai Qui c'è ancora l'esperienza Voglio arrivare al livello 20 cavolo Ce l'hai un po' di torce fatte? Attenti Sì vai Mettete se ce l'avete Io prendo i funghi Dove stai andando Vegas? A prendere l'acqua Secondo me Eh ma è di qua l'acqua? No sta pure di qua Eh ma qua è la più vicina Non ci sono mob di qua No Ma Ma dove aspetta andava? Eh ma di là non c'era Ma che cazzo stai Veloce Vieni qua Via Aiuto L'ho presa L'ho presa L'ho presa Via 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 Perché sei andato laggiù? Perché c'era un mob sulla strada Non è vero Non è vero Via 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 L'ho presa Ragazzi Ora bisogna fare un altro giro Così facciamo una fonte infinita E siamo a posto Esatto Vai io resto qui a tenergli il bada Anzi no 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 Facciamo direttamente qua Fai un buco 2x2 E la rendiamo qua infinita Così è più facile prenderla dopo E ce ne facciamo un'altra fonte la Così facciamo meno strada Ma vuoi dato che è nato quello? Ma dovrei tornare qua o no? Non ho capito Sottornando Sottornando Vai Fammi strada Fammi strada Eh vai qua di fronte bravola Aspetta un attimo Ma occhio a passarmi davanti ragazzi E' nato adesso davanti a me Ma ragazzi comunque qua ci sono più mob L'ho detto perché mi vedono tutti Dall'altro lato non mi vede nessuno Cazzarola Via Via Le missioni per l'acqua Il survival per eccellenza Donna anche tu un secchio d'acqua Vai Forza infinita E ancora prendi un secchio e torniamo Prendi un secchio e andiamo Ma com'è che qui non nasca un skeleton? C'avete fatto caso? Eh ci saranno solo spawner di... Eh ma al buio in teoria dovrebbero nascere no? No qua non è buio se vedi Di la? Eh beh sarà un probabilità Vabbè 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 ragazzi Step io secondo me conviene chiudere la pozza d'acqua E chiudere questo episodio Perché Aspetta aspetta Fai prima Dove le stai facendo la fonte infinita No Ma sto facendo la fonte infinita Boh io ho fatto il collegamento qui si fa prima Gli effetti Vabbè fai la qua da parte della fonte infinita Non vicino all'olta Dopo metti caso si chiude e robe varie Esatto Poi si sa male No no fa qua Mettilo qua Fa Fa Forse è andato un fungo Forza l'acqua fatta Abbiamo pure l'acqua ragazzi Io ne metto sette C'è per terra Sì questi qua per terra sono Ah no No se li metti per terra Grazie perché non è diventato infinita? Eh no perché deve essere su un blocco In teoria e poi non mi ricordo Non so se mi ricordo bene Però deve essere su un blocco sopra E allora trasmette nei blocchi sottostanti Ok No se è il genere Forza d'acqua infinita Possiamo fare l'articello Venite a mettere le patate adesso Sì ora le prendo Io non ce l'ho Te lo dice adesso Chi ho 30 Ma chi se mi frega delle patate quando hai 36 rotte in flash Eh Le mangi le rotte in flash Fatto una cagata Che è successo? No niente Risolto 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 Vabbè ma non serve farlo Non serve farlo così grande Vabbè per Diciamo pure carino vai Ok Un'altra terra non ne abbiamo Eeeh no bisogna andare appena Ma se non mi sbaglio Ma prendiamo quella nella stanza in fondo Tanto gli alberi ce l'abbiamo nella stanza del monumento È un albero l'ho messo anche lì eh Eh non serve dai ce lo riprendiamo Perché? È perché tanto è troppo lontano E quindi i banali sono gialle È lontanissimo sta cazzo di alto Ok Sono riuscito a salvare un albero che stava per estinguersi Oh Chiama il pollice verde Sì Guarda ritappo qua Ho quasi finito la mia piattaformona eh Ho cinque cuori Abbiamo fatto una cazzo di base segreta Almeno ora abbiamo una base Eh sì Prima neanche quella Ok ho fatto una cagata Dai io dovrei andare in un dungeon Abbiamo tre cose di Ci manca la lana arancione Lana arancione dove cazzo Boh chissà dove sta Eh il dungeon numero 2 No Ah il giusto E il 2 dovrebbe stare vicino comunque dove siamo noi Eh nella piattaforma del cazzo video da sei giorni Andremo nel prossimo episodio Porca troia Abbiamo fatto la farm Abbiamo fatto l'acqua Abbiamo fatto tutto Spiega un po' Mi arrivò Allora adesso Le cose sono Oh uomo mangiato non mi ha dato il veleno Che culo Le cose sono un pochino più sotto controllo ragazzi Direi che questo Questo sì Gli ultimi due sono stati gli ultimi No l'ultimo via È stato l'episodio Oh che cazzo Mo io mo Dai Che palla avevo 20 livelli Tutta mia Pezzo 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 di merda Tutta mia Cioè non mi stava bene perché io ne ho fatto tutti un'identica Allora dove c'è sta mafia Allora uccidilo così c'è una cura di lui zero Io ne ho più adesso A me io ne ho più adesso La mia di cose almeno La patata Ancora ma Io posso tutto No ho il letto Ragazzi il picco Dov'è il piccone di diamante? Ok Ok Allora ragazzi Questo episodio è terminato Io e Vega Speriamo che vi sia piaciuto Dai Surreal Dai Ti mando su un carrello Oh E riteneti Fortunato Ma non so manco dove Ah ma Oh perché il mio letto avete rotto? È stato Surreal Io anche È stato Surreal Io ho rotto quello di Surreal E Surreal l'ho rotto il tuo Guarda La prendete sempre con me Che non faccio nulla L'ho rimesso va Io ho rotto quello di Surreal E Surreal l'hai rotto il tuo per rabbia Non è vero Vabbè Metto tutti i materiali qui Mi fai terminare o no? No Vabbè 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 continuiamo Termina Emo Quanto continuiamo Vabbè Allora ragazzi Vabbè Questo episodio è terminato Ragazzi vi spiego vi sia piaciuto Se così è stato lasciato un bel mi piace Passate al secondo canale Link di G2A Facebook Qua da Seppi Vegas Surreal è tutto PUNI 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 PUNI